Avremmo voluto parlarvi di questo. Questo. Oppure di questo. Invece quest'anno il nostro pensiero è rivolto principalmente a loro. Finché l'intera sanità è sotto pressione, scegliamo di frequentare la montagna puntando ad attività a basso rischio. Noi saremo sempre pronti. Ogni incidente aumenta la pressione. Per quest'anno, scegli una montagna diversa, in attività a basso rischio. Grazie.